Ciao, sono Reale Nicolò e faccio parte dell'Accademia di Earforex da circa tre mesi. Pensavo di riuscire a fare tutto da solo, ma purtroppo non è andata così, nel senso che ho conosciuto Arduino e Antonio nel 2022, inizio 2022, sono venuto qui a Bologna a fare uno dei loro corsi e da lì ho capito che da solo non potevo assolutamente affrontare tutto quello che provavano a insegnarmi. Infatti avevo una caterba di video, li guardavo, pensavo di conoscere le cose, ma in realtà poi quando è iniziato il percorso dell'Accademia mi hanno subito corretto e ho capito che quello era il percorso giusto per affrontare questo mondo che ha tantissime incognite. Sono solo all'inizio e per il momento l'Accademia mi sta molto soddisfando.